Questa mattina presso la sala consigliare del Comune di Monterchi si è svolta la cerimonia di consegna degli assegni contenenti il contributo destinato alle famiglie dei 13 bambini nati nel Comune Tiberino durante l'anno 2017. È il primo anno che l'amministrazione comunale di Monterchi decide di istituire tale contributo, che può essere importante per dare un piccolo ma comunque significativo sostegno alle famiglie dei nuovi nati. Noi come amministrazione comunale abbiamo sentito il dovere di fare qualcosa per sostenere le famiglie che intraprendono la scelta di fare un bambino. Noi sappiamo che oggi molti sono gli ostacoli anche di natura economica che spingono molti giovani a non scegliere di dare alla luce un bambino. Noi come amministrazione abbiamo sentito il dovere di dare un contributo, un contributo significativo di 1000 euro a nascita di ogni bambino che può essere importante per sostenere le prime spese che una famiglia incontra. Noi sappiamo che le amministrazioni comunali vivono con difficoltà il bilancio, però poi si fanno delle scelte, quindi l'amministrazione comunale di Monterchi da sempre ha fatto delle scelte verso i bambini, verso la scuola, facendo dei grandi investimenti sul nostro presso scolastico, aiutando le famiglie, mantenendo i costi mensa bassissimi, i costi del trasporto dell'uni. Quindi c'è tutta una politica volta a sostenere la famiglia e quindi i giovani. Assessore Silvio Mencaroni, come hai detto nel tuo intervento, il paese della Madonna del Parto non poteva non istituire un regolamento proprio per i nuovi nati, una gran bella iniziativa del Comune di Monterchi. Sì, è Monterchi il paese della Madonna del Parto che si caratterizza ed è conosciuto per questo simbolo legato alla maternità e alla fertilità da sempre, quindi un'opera che comunque ha delle caratteristiche molto peculiari, una Madonna appunto quattrocentesca vistosamente incinta che non si ritrova anche nell'iconografia classica e quindi ecco ci rende in qualche modo unici nel nostro genere. Questo paese quindi ha accolto i nati del 2017 con enorme entusiasmo perché erano un numero veramente comunque importante per Monterchi, 13 bambini a fronte di un 2016 che ci lasciava veramente un attimino con dei dati molto molto negativi e quindi il fenomeno dello spopolamento, del calo demografico delle nostre zone è un fenomeno molto forte e anche molto grave che in qualche modo le amministrazioni devono trovare delle soluzioni per poterlo risolvere perché comunque i piccoli comuni in Italia sono i comuni dove poi si sta bene, dove i turisti vengono sempre volentieri, un'Italia minore ancora poco conosciuta, tutta da esplorare e dal turismo sicuramente più di massa, però è una terra bellissima, insomma alle spalle abbiamo un paesaggio fantastico, quindi questo contributo e questo incentivo è stato un segnale che l'amministrazione ha voluto dare, sappiamo che è una somma importante, non è una somma che risolve tutti i problemi, però è un segnale importante che noi diamo alle famiglie che scelgono di rimanere nel territorio e scelgono di mettere al mondo appunto dei figli qua a Monterchi. D'altro canto abbiamo anche una struttura scolastica, un plesso scolastico d'eccellenza che ci vede comunque anche lì con delle caratteristiche molto positive, da una mensa interna a dei costi molto bassi per quanto riguarda i trasporti e il buono mensa stesso, quindi insomma un motivo proprio anche per poter mandare i figli in un luogo sicuro e comunque dove c'è un'attenzione a 360 gradi per il ragazzo e per il bambino. Una bella iniziativa e ripeto non solo per un contributo economico ma anche proprio come iniziativa per l'essere genitore, essere genitore è stato come ripagarci di questo, quindi è stata veramente una bella iniziativa, una bella soddisfazione. Ecco raccontaci quando è nata questa bambina. È nata il 15 maggio del 2017 in un modo abbastanza precipitoso, nel senso che è nata in pochissimo tempo, in mezz'ora ed è la nostra seconda genita perché il primo bambino si chiama Pietro e ha sei anni, gli piace il microfono. E niente, Eva è questa bambina che ha quasi un anno.